La diga di Campotosto è un invaso idrico vigilato dall'ingegner Cinelli, direttore generale servizio diga, per quanto riguarda l'infrastruttura fredda, per quanto riguarda l'esercizio idrico ed elettrico, poiché lì c'è un'attività ad opera di Enel Green Power, e in capo alla holding di Enel, la quale holding di Enel, dopo le selocitazioni sismiche, ha effettuato anche una verifica circa lo stato della struttura e ha escluso la presenza di lesioni e di rotture e ha anche dichiarato che la consistenza idrica all'interno dell'invaso occupa solo il 40% della capienza. Comunque si sono impegnati a ridurre ulteriormente la consistenza idrica dell'invaso. Secondo un piano che monitoreremo assieme, Prefettura, Ministro degli Interni, Ministro delle Infrastrutture, naturalmente Enel